E' deceduta intorno a luna di questa notte la signora Teresa Amarotto, ottantene residente a Rocca Gloriosa, vittima di un incidente stratale, verificatosi ieri pomeriggio lungo la 2 tra Eboli e Campania. La pensionata rientrava ad Avellino per rendere l'ultimo saluto al figlio Giacinto Coraggio. Purtroppo intorno alle 17 di ieri l'auto su cui viaggiava una Ford è andata a sbattere più volte contro le barriere di protezione. Nella Ford Focus guidata dal genero erano in tutto 5 familiari. Le sue condizioni erano subito apparse gravi, per questo era stata ricoverata in rianimazione. La polizia stradale che conduce l'indagine è sequestrata da Ford Focus. L'inchiesa è stata coordinata dal PM Penna della Procura di Salerno. La Salma, dopo l'esame esterno, potrebbe essere liberata. Oggi a Rocca Gloriosa si terrà il funerale del figlio deceduto pochi giorni fa ad Avellino.